L'ospitalità non è una cosa che si impara a scuola, è una cosa che hai nel sangue, nel DNA. È qualcosa che respiri nell'aria del luogo dove nasci, che cresce nella terra. L'ospitalità ha qualcosa di magico, trasforma una giornata qualunque in una giornata speciale. L'ospitalità è fatta di gesti, grandi o piccoli. A volte non servono striscioni, bande musicali, fasce tricolore e chiavi della città. Basta uno sguardo o un minimo accorgimento. L'ospitalità è una cosa meravigliosa. L'ospitalità ti fa sentire bene e fa sentire bene gli altri. L'ospitalità significa aprire la tua casa, il tuo albergo, le tue braccia al mondo. O anche solo spostarsi perché qualcun altro possa godersi lo spettacolo. L'ospitalità è un segno di grande civiltà. È un tratto che nobilita noi e il nostro paese. L'ospitalità è una cosa semplice, umile, ordinaria, ma i suoi effetti sono straordinari. Ospitalità significa rimuovere qualche ostacolo e rendere tutto più accessibile per tutti. Un paese più ospitale è un paese migliore. Grazie. 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 Grazie.